Buonasera a tutti e a tutti, perdonate questo ritardo con il quale cominciamo. Volevamo smentire la puntualità del Nord e quindi abbiamo creato artificialmente questo ritardo. In realtà aspettiamo il sindaco che ci sta raggiungendo adesso e che voleva fare un saluto iniziale. Bene, stasera scopriremo insieme chi sono i reni della Terra e chi sarebbe più giusto fossero. E lo facciamo attraverso dei relatori che si alterneranno qui su questo palco, che si presenteranno da soli. Abbiamo un ospite inglese, Tristan, che sarà l'unico ospite che avrà la traduzione in consecutiva per blocchi. Io ringrazio voi tutti che siete qui, che avete avuto la pazienza di aspettarci. e tutti coloro che ci vedono da casa in streaming, perché questo è un evento che sta andando in onda nel canale YouTube ed Expo dei Popoli, quindi è seguito da parecchie persone in tutta Italia con eventi collaterali. Ringrazio l'associazione Barsud che ci ha aiutato nell'organizzare questo evento qui a Napoli. Tutti voi che siete qui e vi auguro una buona serata.